Ed è tutto per quanto concerne questa edizione di Diario Mattina. Vi ricordo che le nostre notizie e i nostri TG li troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, Youtube e Twitter. Ci ritroviamo come sempre a metà giornata per la nostra edizione straordinaria per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus. Grazie per l'ascolto e a più tardi.